Chiedere dimissioni non è mai un gesto semplice ma talvolta è necessario. Sono ore di attesa e curiosità in casa Partito Democratico rispetto all'appuntamento di domani con l'Assemblea regionale del Partito. Si preannuncia un clima molto caldo a fronte delle posizioni che caratterizzano gli iscritti, oltre al fatto che questo incontro segue la sconfitta referendaria del segretario nazionale Matteo Renzi, che aveva puntato forte sulla riforma della Costituzione. Tornando alle possibili dimissioni, il consigliere comunale del Partito Democratico, Marco Toncelli, ha indicato nel vertice regionale la figura che dovrebbe lanciare un segnale facendo un passo indietro. Le dimissioni non si chiedono a nessuno per un dispetto o per un fatto personale, si chiedono per un senso di responsabilità. Quindi confidiamo sul buon senso, sappiamo che la nostra Assemblea e chi è a capo del partito in regione vuole bene al Partito Democratico. Quindi io credo che per il bene del Partito Democratico, ma soprattutto per rispondere a quelle che sono delle istanze, delle esigenze che sono chiare, sono inequivocabili, rispetto a quanto abbiamo ricevuto dai nostri elettori, penso che non si possa più far finta di niente. Sullo ruolo della Vice Secretaria del PD e Presidente delle Regioni Seracchiani, un pensiero che si proietta alle prossime elezioni regionali. Credo che sia legittimo da parte di Deborah Seracchiani, sia legittima aspirazione quella di voler andare a Roma, di voler fare cose diverse rispetto a quelle che ha fatto fino ad oggi. Io credo che la cosa più importante sia che lei si esprima presto, si esprima con chiarezza, perché le elezioni del 2018 devono essere preparate per tempo. Quindi ci dica presto e subito che cosa vuole fare. Credo che ci sia l'obbligo morale da parte sua di dichiararlo.